Pronto? Come va il piantonamento? Lo so che è chiaro di vedere la madre, non la può vedere. Non può vedere nessuno, non può mangiare, non può bere. L'unica cosa che deve fare è firmare quel cazzo di contratto. Mi raccomando, eh! Ecco. Lo so, i giornali scrivono che praticamente è arrivato ieri a Roma, sì, è un albergo a Fiumicino. In realtà, i turbe è da un mese in ostaggio da noi, in un albergo romano, che non faremo il nuovo, chiaramente. Va bene. Allora, guarda, finché non firmo il contratto, ho detto, linea dura, adesso chiamo anche la madre e dico che mi sono rotto i coglioni. Va bene? Mi raccomando, dammi buone notizie.